Claudia Pandolfi Diciamo che Tamara ha sempre questa virtù di contagiare con la sua esuberanza brava, un po' il gruppo degli amici. È la quota gioiosa dei Fantastici Cinque. Però comunque qualcosina nasconde, no? Perché lei fa la hostess, è orgogliosa di farlo, però c'ha qualche problemino sul lavoro. Sì, infatti l'altra medaglia di tutte le cose della vita probabilmente è un aspetto meno piacevole che è quello che la vede a contatto con gli esseri umani un po' meno educati e cauti e quindi subisce le conseguenze come tutti i protagonisti di questo film. Siamo un po' succubi delle cattive abitudini ormai tanto diffuse. Questo film che appunto, anche se fa sorridere e far ridere, è un omaggio un po' a chi è vessato e soprattutto a chi fa tante cose per gli altri senza che nessuno lo sappia. Sì, esatto. È che servirebbe nelle nostre vite una Giovanna che improvvisamente ci riscatta. Senti, ma tu una rimpatriata con gli amici di scuola l'hai mai fatta e stessi come è andata? Ah, dunque, l'ho fatta parzialmente, nel senso che con alcune ragazze sono rimasta in contatto, però la vera rimpatriata non l'ho mai fatta. Ti sei divertita a fare questo film? Moltissimo. Questo è un film fatto da amici, uno su tutti è Riccardo, che mi scelse vent'anni fa per il suo film, che era Auguri Professore. Quindi diciamo che lui è il primo a cui io devo essere davvero riconoscente, perché è il primo che mi ha dato la possibilità di recitare davvero. Prima di quel film avevo fatto ruoli a me con geniali, invece Riccardo mi ha permesso di recitare. Poi è il bello del vostro mestiere, fare cose molto lontane da voi, avvicinarvi a persone e a caratteri che non vi appartengono. Sì, è lo stimolo maggiore, è la cosa più divertente, cambiare maschera. Ci saluti Spettacolomania, cara Claudia Pandolfi? Ma noi siamo affezionati, vero, amici di Spettacolomania, ci conosciamo da quel di... Infatti basta, è ora che forse ci separiamo un po', prendiamo strade separati, che dite? Va bene, non ti intervistiamo più per diciamo un paio di mesi. Dai, ci vediamo fra due mesi e qualche ora. Ciao Claudia. Ciao.